Ciao a tutti, questo è Rufus da Sportaù Milano. Oggi sono qui in Corso Leccelli per mostrare una meravigliosa flat sul terzo luogo di questo edificio. È un'apartamento con tre luoghi. E' solo per un uomo. Andiamo a vedere. Iniziamo questa porta. E qui siamo, benvenuti. Guardate qui. Questo è l'entrante dell'apartamento. Ho detto prima che è solo per le ragazze. Quindi ragazze, questo è tutto per voi. Solo per le ragazze dentro. Solo per le ragazze. Ok. Questo è l'entrante. E' un molto lungo corredore. Due sede corredore. La prima sede e la seconda sede. Voglio iniziare a vedere la prima sede. La più lunga. La più lunga e la più brillante. La prossima. Qui siamo. La prima sede. Questa è la doppia. Un quarto. Un'azienda. Un'escrizione. Un'azienda. Un'azienda di scena. Un'azienda. windows, con 3 windows. Se aprivi, puoi andare sul tuo barcollo privato di questo luogo. È l'unico luogo con un'interior view, ma è una strada secondaria, non è una strada principale, quindi non c'è molto traffico, e è un po' quieto, non c'è un ruolo in questo senso della casa. Ma se qualcosa succede fuori, puoi chiunque questa ventina molto buona. Voglio mostrarvi come si è fatto. Questa è la prima domanda, ok? Questa è la prima domanda per voi, ragazzi. Ok, per andare a vedere gli altri. Per andare al secondo, passiamo a la cucina. Questa è la cucina, una cucina full-equipmenta, con un micro-oven, e un'altra cucina. Qui c'è la cucina. Qui c'è la cucina. Qui c'è la cucina. Oh, c'è la cucina. Questa è la cucina. Questa è la cucina full-equipmenta. Qui c'è una cucina. Qui c'è la cucina. Questa è la cucina. Qui c'è un totale. Questa c'è la cucina. Qui c'è l'autorice. Qui c'è l'autorice. Qui c'è il secondo sondaggio, il secondorado, il sondaggio di doppio, una squadra, un altro spazio, so you can see I can walk around to the entire look that I walk around and an entire room is is a big room here there is a bedroom double bedroom and the window a lot of light comes from this window but the important thing is it interior window so you 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 don't have a street you don't have anything because it's a roof here is the roof of the top of the others building so no problem with noise or a problem no right let's go to see the other bedroom path pass to to the kitchen right and coming back near the entrance right that's the entrance here there is the third bedroom here is a smaller is more than others is the smaller bedroom of the flat but it's very good with a double bed a desk a wardrobe storage here storage here so you don't have problem to have a space to storage your things there is a common storage here too near the bathroom this is the bathroom a very lady bathroom yeah a very lady bathroom where you can store all your all your things you want to use for be the best ladies of the block here there's a shower all you need in the bathroom the shower here and this bathroom is for all for all of the bedroom for the all the bedrooms for all the people this here all right so this is the entire pirate here in crossover celli is very close to the city center there is a lot of public transportation here there is a tram downstairs here on the main road in costa celli a lot of shopping center near to the house and i'm very very happy to show it to you this flat thanks very much from milano from rufus potom milano ciao ciao